Iniziamo quindi a vedere adesso come si presenta il software, quindi si va a creare un nuovo documento e l'input parametrico, come potete vedere, ci dà la possibilità di disegnare liberamente le entità, in questo caso un involucro, attingendo direttamente dal catalogo del programma le stratigrafie con le quali è composto il nostro involucro, in questo caso verticale, ma come anche altre tipologie, quindi involucro orizzontale, eccetera, basta prendere le caratteristiche e disegnarle. Possiamo anche agevolare il disegno, magari importando dei disegni DXF e DVG e quindi sfruttando dei meccanismi che ci consentono di riconoscere, se vogliamo, in automatico, dal disegno DXF e DVG, le varie entità che ci servono per la modellazione dell'edificio. Ecco, con questa bacchetta magica possiamo velocemente ricostruire il modello del nostro edificio, ma se invece siamo in un processo BIM sicuramente avremo dimestichezza con gli oggetti AFC, quindi possiamo creare un nuovo progetto proprio partendo da un file AFC come questo che state vedendo. E in questo caso la velocità, se vogliamo, di imputazione è ancora più alta perché dobbiamo semplicemente associare alle informazioni che noi abbiamo dal modello AFC le strutture, diciamo, le stratigrafie presenti all'interno del catalogo. Quindi dobbiamo semplicemente creare un'associazione tra entità, tra oggetti che però già sono disegnate e quindi non dobbiamo neanche stare lì a ridisegnarle. Quindi vedete la comodità di lavorare in un ambiente BIM. Ovviamente quello per quanto riguarda il costruito, quindi quello che andremo a realizzare. Abbiamo detto che abbiamo bisogno anche di informazioni di carattere climatico. Bene, nel programma andremo ad imputare le condizioni climatiche del sito di installazione o prelevandole dall'archivio o addirittura, vedete, dalle coordinate geografiche rilevate da una mappa, possiamo quindi calcolare i fattori climatici direttamente con l'algoritmo di meteo. Quindi possiamo inserire una coordinata in qualsiasi parte del mondo e ottenere i relativi dati climatici. Dopodiché andremo a inserire informazioni sul costo eventualmente dei combustibili per avere anche un'analisi poi economica alla fine dei costi di combustibili eccetera e andare a specializzare adesso le zone termiche all'interno del modello digitale. Cosa significa zone termiche? Significa andare a indicare i set point di temperature interne che vogliamo ottenere in quelle zone. Quindi non abbiamo più temperature fisse, standard, ma possiamo scegliere una programmazione vera e propria delle temperature, attingendola anche con programmi settimanali, giornalieri che possiamo acquisire, crearci nel nostro catalogo. Il stesso ragionamento vale per le zone di confine non climatizzate, per le quali andremo poi eventualmente a calcolare sempre dinamicamente quelle che saranno le temperature, l'andamento delle temperature di confine interno di quelle zone non riscaldato. Per quanto riguarda le centrali termiche quindi dobbiamo specializzare anche la parte degli impianti che prevediamo all'interno del nostro edificio quindi andando a sfruttare questo wizard con il quale creiamo quelli che saranno gli impianti previsti e per ognuno di essi andiamo quindi a indicare quale sarà il tipo di generatore e soprattutto le modalità di funzionamento di questo generatore quindi con la gestione dell'accensione, quindi anche qui con programmi che possiamo schedulare in qualche modo prendendoli diciamo sempre dal catalogo oppure creandoci noi dei programmi di accensione e spegnimento molto importanti per il calcolo dinamico come vedremo fra un attimo poi entreremo un po' più nel dettaglio e qui anche per esempio per l'acqua calda sanitaria eccetera. Parlavamo dei programmi, bene, una caratteristica molto importante di un calcolo dinamico è proprio quello di definire la tempistica diciamo di funzionamento ma non solo ma anche la percentuale quindi di occupazione all'interno degli ambienti per esempio gli apporti interni quindi definite quale sarà il profilo di occupazione in questo caso all'interno di una zona termica o all'interno di un determinato vano ebbene qui con questo configuratore dei programmi possiamo velocemente quindi crearci delle settimane tipo possiamo crearci dei giorni tipo e quindi indicare in una determinata fascia oraria quale sarà la percentuale di presenza di persone in questo caso per quanto riguarda l'occupazione in quella zona e nei vari giorni della settimana quindi confermando questa imputazione otteniamo già il prospetto vedete qui in basso delle percentuali di occupazione nei vari giorni che abbiamo indicato nel programma ma addirittura possiamo intervenire anche giorno per giorno e quindi scegliere determinati profili diciamo per un determinato giorno e andarlo a cliccare direttamente nel calendario quindi venite qui in questi giorni ho un profilo diverso e quindi mi vado a dettagliare nei limiti del possibile tutto ciò che riguarda l'utilizzo del nostro modello per quanto riguarda appunto l'occupazione ripeto ci sono già dei profili anche predefiniti se vogliamo nel catalogo però possiamo comunque associarne delle altre un'altra caratteristica importante che è fondamentale nel cascolo dinamico per esempio è il discorso delle schermature le schermature che anche esse hanno una serie di parametri da dover soddisfare addirittura possiamo decidere se la schermatura è sempre aperta sempre chiusa oppure parzialmente aperta eccetera perché questo legato sempre a un utilizzo dell'edificio e quindi ha una possibilità diciamo di scambio termico diverso rispetto all'esterno relativamente ai singoli ambienti quindi i vani che andremo a creare sostanzialmente nel nostro modello dobbiamo indicare come abbiamo visto prima per esempio gli apporti interni ecco per gli apporti interni le persone quindi l'illuminazione gli apporti generici ognuna di questi carichi che noi andiamo a definire all'interno ecco dell'edificio è legato a un profilo che può essere o di occupazione oppure di accensione nel caso degli impianti e quindi leghiamo sempre il carico in quel momento che stiamo caricando con un utilizzo e quindi come incide sostanzialmente in quel vano in questo caso oppure nell'intera zona ecco qui possiamo definire degli apporti generici anche in questo caso indicare qual è il programma con cui questi apporti vanno considerati all'interno di quel vano quindi vedete com'è fondamentale il discorso della programmazione quindi della schedulazione se vogliamo delle varie entità che devono essere prese in conto poi nel calcolo appunto dinamico ora per ora e giorno per giorno quindi abbiamo visto sostanzialmente la parte di modellazione se vogliamo della creazione del modello è chiaro che dare in pasto questo modello a un calcolo a un simulatore dinamico significa anche richiedere del tempo per avere un risultato del calcolo visto che le variabili in gioco sono veramente tantissime ebbene diciamo laddove non dovesse andare a buon fine il calcolo ce ne saremmo accorti solo magari dopo n minuti o n ore nel caso della complessità quindi abbiamo come dire strutturato una diagnostica che è a monte del lancio della simulazione quindi prima di entrare in simulazione c'è questo strumento di diagnostica molto potente con il quale praticamente possiamo controllare già se i dati inseriti sono corretti quindi prima di lanciare il simulatore ecco la diagnostica ci va a segnalare eventuali situazioni sia di errore sia praticamente di attenzione e direttamente selezionando una determinata segnalazione di errore possiamo andare mirati sull'oggetto, sull'entità che ha causato quell'errore e intervenire in questo caso per esempio abbiamo abilitato una ventilazione meccanica senza programmazione probabilmente c'era sfuggito che non deve avessereci la ventilazione meccanica la togliamo e quindi andiamo ad intervenire ci sono anche delle attenzioni come questa sulle superfici trasparenti per esempio quella schermatura è un'attenzione e l'abbiamo impostata sempre chiusa possiamo ridefinire la cosa e magari modificarla e gestirla in modo diverso quindi vedete come c'è interazione tra diagnostica e entità in modo tale da tenere sempre il modello sotto controllo fatta di nuovo la diagnostica abbiamo adesso il risultato più pulito non abbiamo gli errori di prima, ce ne sono ancora altri che però possiamo anche tenere perché come dicevo sono dei warning che possono anche essere lasciati fatta quindi anche una verifica dei dati inseriti andiamo adesso a chiedere al solutore di calcolare le prestazioni energetiche del nostro edificio Thermus Plus utilizza il motore di calcolo Energy Plus che è il più flessibile diffuso motore di simulazione energetica dinamica degli edifici al mondo quindi non abbiamo praticamente creato noi un algoritmo di calcolo ma sostanzialmente ovviamente noi abbiamo dato a Energy Plus praticamente una modalità di input semplice che è quella BIM e una come vedremo fra un attimo analisi dei risultati molto flessibile e rigorosa per quanto riguarda i risultati di calcolo quindi lanciamo il calcolo dell'edificio e sostanzialmente la simulazione diciamo ci restituirà come vi dicevo tutta una serie di risultati di calcolo che andiamo sinteticamente a raggruppare in questi grafici che vengono riproposti dal programma questo a livello di edificio oggetto di calcolo quindi sia annuale sia mensili sia giornalieri che orari quindi possiamo scegliere noi quali risultati visualizzati ma sempre in forma grafica quindi immediatamente analizzando già l'andamento energetico dell'edificio quindi su base oraria, su base giornaliera, su base mensile annuale quindi in questo caso stiamo visualizzando le dispersioni, i fabbisogni, i giornalieri ecco vedete come possiamo scegliere liberamente le grandezze da rappresentare addirittura a livello degli impianti quindi anche sugli impianti possiamo chiedere e a livello di divani quindi ambiente per ambiente vogliamo conoscere il fabbisogno annuale della cucina in questo caso o di un altro ambiente quindi basta solo andare a selezionare l'entità che viene schedulata in questo albero e andare quindi a visualizzare i risultati ecco qui adesso andiamo sulla centrale termica per visualizzare anche i risultati relativi agli impianti sostanzialmente quindi all'intero edificio quindi gli indicatori complessivi di fabbisogno i costi dei combustibili e quindi le eventuali emissioni di CO2 che vengono realizzate dai nostri impianti quindi come potete vedere una possibilità, una flessibilità di analisi dei dati veramente diciamo molto potente grafici questi ovviamente che sono figli di una marea di numeri di dati che il programma ha calcolato che però possono diventare di difficile lettura diciamo numericamente però con i grafici sicuramente si apprezza molto meglio il risultato ma di più il modello BIM ci dà la possibilità di riportare tutti i risultati numerici che prima abbiamo visto come indicatori eccetera direttamente sul modello 3D quindi attraverso queste termografie diciamo quindi possiamo avere la rappresentazione sul modello 3D delle varie componenti, in questo caso delle temperature superficiali esterne delle superfici e quindi rappresentare anche direttamente nel 3D i vari valori dei risultati da un punto di vista grafico sia per anno, per mese, per giorno e per ore anche qui diciamo la rappresentazione grafica risente sostanzialmente del calcolo dinamico fatto in maniera dettagliata su base oraria se vogliamo ma per ogni mese e quindi per ogni anno quindi la disponibilità di questi dati può essere adesso fruita anche con queste rappresentazioni grafiche molto comode per un'analisi energetica ovviamente come vi dicevo tutti quei risultati sono figli di numeri che troverete poi sempre nel toolbox dei risultati come in genere accade ma anche qui per ogni indicatore e quindi per ogni parametro diciamo termofisico che abbiamo calcolato possiamo andare ad avere una rappresentazione grafica una rappresentazione numerica e i vari elaborati e i vari tabulati possono anche essere eventualmente esportati in formato Excel quindi se vogliamo avere un tabulato dei risultati di calcolo che ecco sono veramente tanti i numeri che vengono fuori dal calcolo dinamico e un report diciamo dei risultati sempre diciamo che riporti delle informazioni grafiche sintetiche quindi una sintesi diciamo dei risultati per avere poi un dato su cui poter ragionare ecco quindi abbiamo visto lo studio dei risultati di calcolo vediamo adesso come può essere utilizzato l'EMUS Plus per esempio per avere per fare le scelte diciamo di carattere energetico di miglioramento energetico in questo caso per esempio sto effettuando una modifica del colore semplicemente di quelle superfici opache che sono lì nella parte superiore dell'edificio e vado a modificare la stratigrafia per esempio diciamo di quelle finestre in modo tale da migliorarne ovviamente lo scambio termico e quindi sicuramente averne dei benefici è chiaro quindi che questa modifica sembra banale però ovviamente in un calcolo dinamico deve risentire poi nel complesso dell'effetto fatto e in più possiamo modificare ad esempio l'utilizzo ecco dell'impianto quindi anziché considerare un impianto sempre acceso come siamo abituati a gestirli con il calcolo semistazionario andiamo a scegliere un profilo di utilizzo residenziale che è già parametrizzato su un utilizzo diciamo non più sempre acceso ma a seconda del profilo che abbiamo creato e in questo caso andare a calcolare ecco dinamicamente sia una situazione la situazione ante quindi prima di fare queste modifiche una situazione post dopo aver fatto questi piccoli interventi di accorgimenti se vogliamo energetici abbiamo i due modelli ecco qui andiamo a vedere per esempio la temperatura o i fabbisogni diciamo dei ivani e osserviamo immediatamente come per esempio nella scala cromatica lì vedete in alto si passa da un 96 a 61 a un 78 a 20 come fabbisogna in kilowattore al metro quadro annuo quindi abbiamo sicuramente con queste semplici modifiche già diminuito, migliorato il fabbisogno energetico complessivo diciamo del nostro edificio quindi vedete anche come è possibile gestire un confronto immediato tra due soluzioni nell'ambito dello stesso calcolo ebbene ovviamente il confronto può essere esteso anche agli indicatori se vogliamo energetici come ad esempio il fabbisogno di energia utile quindi nella situazione ante e nella situazione post quindi possiamo estrapolare quei grafici per ragionarci poi ecco diciamo sia da un punto di vista dei fabbisogni si passa da un 5.000 a un 3.800 e sia in termini di costi passiamo da 456 euro di spesa per esempio per quanto riguarda la parte diciamo di combustibile a 338 euro quindi arrivare poi a monetizzare l'effetto del nostro intervento bene quindi con questo abbiamo finito la panoramica se vogliamo di utilizzo del software Termos Plus con il quale abbiamo sicuramente intravisto diciamo gli enormi vantaggi che esso porta partendo proprio dalla possibilità per esempio di avere dei dati meteo per qualsiasi località del mondo un input molto semplice che quindi ci porta a definire addirittura dei programmi orari di funzionamento sostanzialmente dei nostri impianti nonché del nostro edificio stesso una piena gestione dei ponti termici gli algoritmi per simulare condizioni di ventilazione naturale connessioni parziali tra stanze massima integrazione con il modello architettonico e una intuitiva e diciamo semplice interpretazione degli autobut attraverso grafici mappe di colore dati tabellati e quindi una gestione multipla anche di più progetti quindi tutto questo praticamente tutti questi vantaggi fanno di Termos Plus una soluzione unica che indica quindi l'analisi energetica dinamica degli edifici e il BIM grazie a tutti grazie a tutti